L'unico livello istituzionale che in questo momento sta rispettando le scadenze del PNRR sono i comuni. E quanto è emerso da un incontro tra l'Anci e il Governo? Sì, proprio così, nella due giorni che abbiamo avuto a Roma, Missione Italia, il PNRR dei Comuni e delle Città, nel confronto con il Governo abbiamo ribadito quanto i comuni siano l'unico livello istituzionale che sta rispettando tutte le scadenze. E quindi chiediamo ancora una volta al Governo di mettere sempre di più in condizione i comuni di poter avere risorse a disposizione per il PNRR, di poterle spendere, di poter avere personale, perché come Draghi ebbe a dire qualche anno fa, quando partì il percorso del PNRR, la sfida del PNRR la vinciamo solo esclusivamente se metteremo tutti i comuni in condizione di poter lavorare. E questo sta avvenendo. Si è parlato anche del biodigestore di Teramo? Sono stati presentati i progetti più significativi ovviamente per singola missione, la missione relativa alla transizione ecologica, ha visto appunto presentare nel video illustrativo come modello di buona gestione e soprattutto di capacità di intercettare risorse sul settore così importante proprio quello del biodigestore del Comune di Teramo che con la Teramo Ambiente stiamo portando avanti e che ci consentirà anche attraverso la fusione con il mote di creare un sistema impiantistico di gestione dei rifiuti con Teramo Città Capoluogo al centro, cittadella dell'economia circolare che porterà beneficio per i nostri cittadini nei prossimi anni. Quindi è una sfida del futuro che stiamo vincendo e che porteremo avanti mettendo sempre al centro la qualità della vita e la qualità dell'ambiente della nostra città.